... Onorevole Cosentino, solo una cosa, se conferma le accuse a Italo Bocchino, è lui il referente di Casalese, perché non lo ha detto fino ad oggi? Oggi l'ha detto in conferenza stampa. Io ho detto che lui è stato eletto a Casal di Principe, non che è il riferimento di Forze del Male, è stato eletto là.